Iliad ha deciso di entrare nel settore della rete fissa offrendo un nuovo servizio in fibra ottica fino a 5 gigabit al secondo con prezzi da urlo. Scopriamo insieme di cosa si tratta, ma prima, come sempre, non scordate di iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di Evriai.it. Negli ultimi anni si è abusato spesso della parola rivoluzione, usata più come iperbole che nel vero senso della parola. Iliad, invece, a questo termine ha dato un significato concreto, dando agli utenti tariffe chiare e stabili nel tempo, a fronte di una rete affidabile, cresciuta con costanza e con pacchetti di dati decisamente più generosi della media. Dal debutto dell'operatore francese, infatti, anche le offerte della concorrenza sono cambiate. E se oggi abbiamo opzioni da 80, 100 o 120 gigabyte al mese lo si deve anche al coraggio del brand diretto in Italia da Benedetto Levi. Ed è stato lo stesso Levi ad annunciare l'ingresso di Iliad in un settore scottante, quello della telefonia fissa e di internet in fibra ottica, con un'offerta aggressiva e un nuovo router creato da zero. L'impatto del fattore Iliad nella telefonia fissa lo scopriremo solo col tempo, ma quando si parla di questo settore si entra spesso in una selva oscura, con cifre capaci di lievitare misteriosamente senza alcuna spiegazione apparente. Iliad vuole differenziarsi anche in questo, cercando di sovvertire l'ordine delle cose esattamente come ha fatto in campo mobile, con offerte chiare e senza sorprese. Chi è già cliente Iliad su smartphone può aderire alla fibra a soli 15,99€ al mese per sempre. Per i non clienti invece l'offerta dedicata garantisce comunque un discreto vantaggio, a 23,99€ al mese per sempre. L'unica spesa aggiuntiva richiesta riguarda l'installazione, ma si tratta di un singolo pagamento di 39,99€. La rescissione invece non prevede penali. Chi sottoscrive la rete fissa Iliad può dormire sereno anche dal punto di vista tecnico. L'operatore ha scelto di proporre esclusivamente il servizio FTTH, con la fibra che arriva direttamente in casa e la massima velocità garantita dall'infrastruttura che in questo caso è in grado di offrire fino a 5 gigabit al secondo accumulativi sulle porte Ethernet del suo Iliad Box. Spesso gli operatori di rete fissa tendono ad acquistare in blocco dispositivi di terze parti per personalizzarli e proporli agli utenti. Iliad invece ha voluto fare un passo in più con il suo router, disegnato ed ingegnerizzato da zero per adattarsi al meglio all'offerta, nonostante sia comunque possibile utilizzare anche modem di terze parti. Scegliendo l'Iliad Box si avrà un router compatto e dal design smart, capace di raggiungere i 5 gigabit per secondo accumulativi in download e fino a 700 megabit per secondo in upload. Nessun supporto al Wi-Fi 6, ma la tecnologia wireless Wi-Fi 5 MIMO dovrebbe garantire una velocità massima in download attorno ai 500 megabit per secondo. A livello di sicurezza invece troviamo il protocollo WPA3, mentre in termini di copertura Iliad offre anche un sistema mesh proprietario a soli 1,99€ in più al mese per un ripetitore aggiuntivo e perfettamente compatibile con Iliad Box. Un occhio di riguardo anche per la gestione semplificata dell'offerta grazie all'applicazione mobile, attraverso cui sarà anche possibile gestire il parental control e il tipo di utilizzo consentito ai più piccoli. Quanto alla disponibilità, Iliad si appoggia all'infrastruttura Open Fiber. Attualmente 7,4 milioni di famiglie sono coperte direttamente dal servizio, ma non in tutte le città sarà possibile arrivare a 5 gigabit al secondo. Mentre l'offerta mobile è altamente democratica, capace di raggiungere la quasi totalità della popolazione grazie alla rete proprietaria di Iliad e al supporto di Win3, con la rete fissa non sarà così, almeno non nell'immediato. L'intenzione dell'operatore francese è quella di espandere gradualmente la sua rete, senza cedere alla tentazione di offrire il servizio anche con tecnologie misto rame. A oggi, però, solo una ristretta porzione della popolazione può effettivamente sottoscrivere l'offerta di rete fissa di Iliad. La speranza è che anche altri operatori decidano di rispondere in modo adeguato alle tariffe Iliad, offrendo pacchetti economici e senza pensieri. Qualcosa, però, ci dice che il player francese è destinato a conservare il suo carattere ribelle ancora per molto tempo, e forse è bello così. Ma adesso tocca a voi. Cosa ne pensate della nuova offerta fibra Iliad? È possibile che l'operatore francese riesca a trasformare il mercato anche nella rete fissa, grazie a prezzi accessibili e offerte senza vincoli? Fatecelo sapere, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.